Beh, il bambin Gesù ci porterà alla Camera la legge di bilancio, ormai assodato e quindi diciamo ci avviamo a passare le feste in aula. Non c'è una forzatura di tempi? No, nessuna forzatura di tempi, il rispetto dei tempi, la tutela delle prerogative dell'opposizione e quindi insomma i tempi sono quelli, l'importante è approvarla entro il 31 dicembre. Se la Forza Italia conclude anche così qualsiasi tipo di battaglia, di prologa del super bonus, vi arrendete? No, non arrendersi mai, noi riteniamo che tutta la maggioranza capisce il problema, che è un problema importante specialmente per quei cittadini onesti, quelle aziende oneste che hanno non usufruito in maniera maldestra delle prerogative del bonus e del super bonus, che noi facciamo il tifo perché prima della fine dell'anno ci possa essere una proroga. Con mille proroghe e con altri provvedimenti? C'è la delega anche al decreto? Ma quella è una delle ipotesi, quindi il 31 dicembre è ancora lontano. Poi vuole della proroga? Certamente, noi riteniamo che nel rispetto dei vincoli di bilancio possa essere trovata le economie per poter far sì che coloro i cittadini che hanno usufruito, ho detto in maniera corretta, le prerogative del super bonus e del bonus possano proseguire i lavori se li hanno completati almeno a una percentuale molto importante e una proroga di qualche mese. Sento dire che il governo è saldo, sono tre partiti che sostengono il governo che hanno un DNA diverso, ma il programma scritto in comune che ha fatto vincere la coalizione il 25 settembre 2022 ne dimostra la saldatura programmatica e progettuale. È un momento difficile per tutto il mondo, per l'Europa in particolare, ma abbiamo delle performance che sono migliori di quelle di altri paesi europei, vedi Germania che è in crisi, non è stato approvato il loro bilancio con grande censura da parte degli organi loro competenti, la Francia non se la ride, l'Olanda nemmeno. L'Italia ha raggiunto mezzo milione di nuovi occupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato, siamo coloro i quali abbiamo una crescita maggiore degli altri, ma ovviamente anche noi dobbiamo sopportare una crisi complessiva che speriamo nel 2024 si allenti, si allenti il costo del denaro da parte della BCE e noi avere nel 2024 un ruolo ancora più importante in Europa. Questo è quello che vuole Forza Italia e su questo Forza Italia sta lavorando. Onorevole, ieri a proposito dei rapporti tra le forze di maggioranza, Forza Italia ha avuto una riunione dei parlamentari, sembrerebbe che da questa riunione sono usciti molti malumori. Fregnacce, a Roma si dice, no? Non è assolutamente vero, quindi non so chi è questa gola sprofondata che ha tirato fuori questi argomenti, nessun mal di pancia, quindi non so cosa dirlo. Non si sentono quindi i suoi parlamentari appiattiti rispetto alla posizione di Fratelli d'Italia, rispetto ai lavori parlamentari che vengono meno. Ma guardi, ho letto anch'io sto titolo, ma non so da dove è uscito. Noi abbiamo i nostri spazi, abbiamo i nostri ministri, abbiamo un vicepremier che sa il fatto suo e un rapporto ottimo fra i capigruppo, quindi francamente non c'è nulla da dire su questo. Guarda, devo dire che già la notizia è che lei ha letto all'articolo, perché da Fratelli Italia sembra che nessuno l'ha letto. Nessuno l'avesse letto, non l'ho fatto ora segna a Stato. No, però me l'hanno mandato loro, quindi... No, 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 no.